Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di LibreOffice Writer. In questa lezione vedremo come iniziare a modificare i paragrafi. Cominciamo subito. Per prima cosa riapro il documento che avevamo lasciato in sospeso nella precedente lezione, in cui abbiamo visto come inserire l'intestazione e il piedipagina a questo documento e il titolo e l'oggetto al documento. Cominciamo subito con la prima modifica che possiamo fare ad un paragrafo. Vediamo come far rientrare la prima riga di un paragrafo. Il rientro non è altro che uno spazio all'inizio del paragrafo. In questo caso vogliamo far rientrare soltanto la prima riga del paragrafo, mentre le altre righe resteranno tutte a sinistra. Ci sarà soltanto la prima riga che comincerà un po' dopo. Per prima cosa selezioniamo il paragrafo a cui applicare questa modifica, clicchiamo il tasto destro sulla selezione, scegliamo il menu paragrafo e poi ancora paragrafo. Nella prima scheda chiamiamo rientri e spaziature. Qua in alto possiamo vedere c'è la parte che riguarda i rientri. In questo caso vogliamo rientrare soltanto la prima riga del testo. Quindi, per esempio, scegliamo un centimetro per il paragrafo che abbiamo selezionato e facciamo OK. Come vedete, soltanto la prima riga del testo è rientrata rispetto a tutte le altre righe. Continuiamo la modifica dei paragrafi vedendo come far rientrare un paragrafo sia a destra che a sinistra. Quindi non ci sarà soltanto la prima riga come abbiamo già visto, ma tutte le righe del paragrafo cominceranno un po' dopo e tutte le righe del paragrafo finiranno un po' prima rispetto alle righe degli altri paragrafi. Quindi, selezioniamo sempre il paragrafo a cui applicare la modifica, tasto destro, paragrafo, paragrafo. Questa volta, sempre in rientri e spaziature, dovremo modificare prima del testo e dopo il testo. Proviamo a fare due centimetri prima e due centimetri dopo e premiamo OK. Come vedete, il testo comincia due centimetri dopo rispetto alle righe degli altri paragrafi e finisce due centimetri prima rispetto alle righe degli altri paragrafi. Passiamo adesso ad applicare gli sfondi ai paragrafi. In LibreOffice Writer ci sono due tipi di sfondi. Il primo che vedremo è lo sfondo di carattere o evidenziazione. Selezioniamo il paragrafo a cui applicare questo tipo di sfondo e premiamo questo tasto che è il colore di evidenziazione. Possiamo premere la freccia per vedere tutti i colori che possiamo applicare, i colori standard che possiamo applicare, possiamo togliere il colore se è già applicato a un paragrafo, qui in basso possiamo vedere i colori recenti che sono stati utilizzati oppure creare un nostro colore personalizzato. Usiamo il solito giallo ed ecco qua lo sfondo di carattere o evidenziazione. In quest'altro paragrafo vediamo come applicare il secondo tipo di sfondo ad un paragrafo, chiamato anche sfondo di paragrafo. Selezioniamo il testo, tasto destro, paragrafo, paragrafo. In questa finestra andiamo a selezionare la scheda area. Adesso è selezionato senza, perché il paragrafo che abbiamo selezionato è senza sfondo, dobbiamo scegliere colore e ancora una volta andare a selezionare il colore che preferiamo. Per esempio questo azzurro. Premiamo ok e vediamo che al nostro paragrafo è stato applicato lo sfondo dell'azzurro che abbiamo scelto. Si può vedere subito qual è la differenza tra questi due sfondi. Il primo, chiamato evidenziazione o sfondo di carattere, applicherà il colore soltanto dove è presente un carattere. Dove invece il carattere non c'è, ci sarà il bianco. Mentre nello sfondo di paragrafo vedremo lo sfondo applicato a tutto il paragrafo, quindi ci sarà questa specie di rettangolo tutto attorno al paragrafo. Vediamo adesso come mettere un bordo a un paragrafo. Lo selezioniamo, tasso destro, paragrafo, paragrafo, andiamo a scegliere da questa finestra la scheda bordi e qui possiamo inserire il nostro bordo. Per prima cosa scegliamo la larghezza della linea, per esempio tre punti. scelgo prima la grandezza in modo da vedere meglio il tipo di linea o comunque posso vedere che effetto avrà quella linea. Per esempio scegliamo questo tratteggio, poi scelgo il colore della linea e infine devo scegliere dove andare ad inserire la mia linea sul paragrafo che ho selezionato. In alto ci sono delle linee preimpostate, per esempio nessun bordo, bordo su tutti e quattro i lati, bordi solo a sinistra e a destra, bordi solo sopra e sotto, bordo solo a sinistra. oppure posso selezionare col mouse dove andare ad inserire la mia linea. Questo quadratino grigio sta a rappresentare il paragrafo o i paragrafi che io ho selezionato. Quindi rispetto al paragrafo queste linee si metteranno soltanto sopra e soltanto a destra del paragrafo. faccio ok per inserire il bordo come vedete sul mio paragrafo è comparsa una linea un bordo sopra e a destra vediamo ora come suddividere il paragrafo su più colonne. Innanzitutto selezioniamo il paragrafo da dividere andiamo nel menu inserisci e scegliamo l'opzione sezione qui possiamo scegliere il nome della nostra sezione per suddividerlo andiamo nel menu colonne in alto abbiamo un'anteprima delle sezioni che possiamo scegliere due colonne, tre colonne o due con una più grande in questo caso scegliamo due colonne di dimensione uguale possiamo scegliere quanto spazio ci deve essere tra una colonna e l'altra per esempio lasciamo 0,50 mezzo centimetro possiamo inserire anche una linea di separazione tra le due colonne per esempio inseriamo una linea tratteggiata di colore viola e larga 0,25 punti facciamo inserisci e vediamo che il nostro paragrafo è stato suddiviso su due colonne con una linea di separazione tratteggiata se ci accorgiamo in un secondo momento che la sezione che abbiamo inserito è sbagliata oppure vogliamo modificarla perché non ci piace il tipo di linea che abbiamo scelto oppure dobbiamo aggiungere una terza colonna possiamo modificare la nostra sezione possiamo premere col tasso destro sulla sezione e andare in modifica la sezione in questa finestra possiamo cambiare il nome ma cliccando su opzioni torniamo al menu precedente e quindi impostare per esempio le tre colonne e cambiare il colore della linea per esempio in verde facciamo ok facciamo ok e vediamo che il nostro paragrafo è stato suddiviso su tre colonne con una linea tratteggiata e verde termino qui questo primo video che riguarda la modifica dei paragrafi nel prossimo video vedremo altre funzioni di LibreOffice Writer ciao 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 ciao